La Tantella come genero umico considerata il XXI secolo in quello della pratica degli Avontour, dalle porti alla mobilità nord-europea, affrontava questo viaggio che era un po' un viaggio iniziatico, un viaggio personale, un po' un'attacca obbligata per i giovani della mobilità europea, verso Piero Elia, quindi partendo da Napoli poi andavano verso le periferie. Il XXI secolo in cui si afirma un genere, perché, per esempio, troviamo alcuni acontecimenti come il Gran Tur, che era un po' caratteristico, durante il quale i giovani della corte avevano, era un po' obligatorio, di andare da Napoli al Reino per discutere altre cose e per fare un viaggio di formazione personal. E per questo, in questo momento storico, si encuentra la formazione della musica. ! Con un'attaccaário Con un'attacca Grazie a tutti. Grazie a tutti.